Il ruolo assegnato ha poca rilevanza, l'importante per quasi tutti loro è semplicemente esserci, perché partecipare alle celebrazioni della disfida, il duello del 1503 tra 13 cavalieri italiani e altrettanti avversari francesi non è solo un divertimento ma anche un onore. La selezione finale delle aspiranti comparse che prenderanno parte agli eventi rievocativi in programma a Barletta dal 19 al 21 settembre si è conclusa ieri sera nel Teatro Curci, dove era palpabile l'emozione di indossare le vesti di dame, nobili e popolani per la rappresentazione di un avvenimento che ha reso la città di Barletta famosa in Italia e nel mondo. Questo è la città che va in scena, ovunque io vada sento che non è come quando fai uno spettacolo teatrale che interessa chi ama il teatro, qui tutta la città è in attesa. I criteri per la scelta delle comparse sono stati chiari, mostrare dimestichezza nel ruolo poteva non essere sufficiente, per vincere la selezione era necessaria anche un po' di fortuna. Non è soltanto un criterio lui o lei è più bravo o meno brava di questo o di un'altra persona, quindi spero che nessuno rimanga male in questo. Siamo partiti dal patrimonio dei costumi che il comune ha e che può mettere a disposizione e quindi stiamo facendo una ricerca per trovare chi meglio potrà indossare questi costumi, chi meglio potrà raccontare i personaggi che sono in questi costumi. Si inizia giovedì 19 settembre in piazza Prefettura con la rievocazione del momento dell'offesa, l'affronto rivolto dal condottiero francese Ghide Lamotto al valore dei cavalieri italiani guidati da Ettore Fieramosca, da cui ha avuto origine la disfida. Si prosegue venerdì 20 settembre in piazza Marina con il giuramento dei 13 cavalieri italiani, sabato sera agli eventi conclusivi con lo spettacolare cortio trionfale. Noi abbiamo cercato di rispettare gli appuntamenti della tradizione introducendo alcuni elementi che sono il nostro taglio. Il nostro taglio è un taglio teatrale, quindi partiamo da un punto, da un cantore che canta, per allargarci poi a degli attori che interpretano, ma soprattutto evocano le gesta. Abbiamo fatto un lavoro di drammaturgia, secondo me bello come lavoro che si è fatto, costruendo delle canzoni, delle musiche, costruendo le battute dei personaggi, dando vita a quello che poi è il sentimento dei personaggi. Sabato 21 settembre nel fossato del castello tornerà la rievocazione del duello cavalleresco, insieme al cortio trionfale l'evento più atteso della manifestazione. Una bellissima giostra con il gruppo equestra e la staffa, sono dei grandi professionisti abituati al cinema, abituati alle grandi messe in scene cinematografiche che verranno per noi in questo. L'appuntamento con la disfida di Barletta è quindi dal 19 al 21 settembre, anche per chi non è riuscito a superare le selezioni da aspirante comparsa. Spero che chi magari non è potuto entrare in questa edizione possa entrare nella prossima e soprattutto stia con noi, perché chi ama il teatro ha un ruolo sia che in quel momento sia spettatore, sia che in quel momento sia in palcoscenico.